e a grande richiesta abbiamo la nostra vincitrice 2016 campo femminile Ilaria cosinato fortissima fortissima due delfino quattro misti 200 misti ma questa esperienza del mio best ti ha giocato parecchio si mi ha aiutato moltissimo quest'anno a crescere è stata motivata moltissimo dal sponsor che comunque mi ha fornito materiale hanno fatto il lavaggissimo nel cervello racconta perché noi dobbiamo dire ai ragazzi che ci seguono che cosa succede è arena ha del bel materiale sono bei disegni dei colori esatto parliamo di colori poi in effetti torniamo a quello che la tua vittoria e andremo anche in dove ma c'hai dei colori che ti piacciono rosa ma il rosa o il fucsia perché fucsia 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 allora vedi occhialini diciamo differenza tutto tutto rosa sono la Barbie della piscina ah sì hai vinto e anche tu andrà in Doven speriamo di imparare a nuotare in Doven perché qua la tecnica ma sei come me ma sei uguale a me allora ma tu hai questa grandissima opportunità di andare in questa queste vasche no pieni di telecamere speriamo sia una bella esperienza perché ne ho bisogno quindi sono molto contenta di questa opportunità un consiglio che potresti dare alle ragazze che hanno qualche anno meno di te tu sei giovanissima c'è qualcuno che ti imita già ti imita i tuoi costumini colorati imita il tuo occhialino la confetta la moda prima di tutto la moda prima di tutto ma siete troppo fashion blogger voi eh comunque per diventare forti tu fai comunque delle discipline che sono molto impegnative quattro misto due del fino e scelte legale più complicate che esistano e vedi atleti quello fanno è bravissima vabbè non ti preoccupare e cosa bisogna fare bisogna avere la fortuna o bisogna costruire la propria fortuna è un po' entrambe fortuna serve sempre però costruirsi la è la base e per costruirsi bisogna faticare tanto molto come tutti gli atleti di Swimmyall best per la partecipazione di Swimmyall best